Grazie a tutti. Alla fine sono gare belle perché sono facili da preparare perché l'attenzione è massima e tutto è portato ai livelli massimi dall'atmosfera che ci sarà. Giochiamo la prima in casa in Champions contro i campioni d'Europa che si sono anche rinforzati quindi sarà una partita bellissima, difficile quanto stimolante. Sono convinto che faremo una grande partita e che tutto l'ambiente non vede l'ora, noi in primis, i tifosi e tutto il resto di vivere questa grande serata. Ciao Giorgio, Giovenner Benese, Sport Italia. Arrivate da tante partite in cui avete preso gol. Ti chiedo qual è l'errore che non vi potete concedere domani. Grazie. Ancora in Champions l'abbiamo preso quindi speriamo sia di buona auspice. Secondo me non bisogna concedere troppe ripartenze forzando situazioni a una squadra come il Chelsea che ha grande fisicità, grande compattezza. È una squadra nel vero senso della parola e lo ha dimostrato nella scorsa stagione e lo sta continuando a dimostrare. Quindi ci vorrà pazienza, velocità di gioco e non andare poi in quelle che sono le loro qualità migliori. Ciao Giorgio, Nicola Gallo, gruppo Mediapason. Ti chiedo se sei pronto alla battaglia perché domani ci sarà l'ennesimo capitolo di quello che oramai è un grande classico del calcio europeo, no? Sai a cosa mi riferisco, credo. Sei di nuovo di fronte. Sì, vabbè, ma poi è un po' limitante parlare solo magari della sfida che può essere fra me e Lukaku. La fortuna sarebbe quella di riuscire a fare una partita con grande equilibrio dove concediamo pochi spazi a campo aperto a un giocatore come Lukaku, a giocatori come Havers, Werner e gli altri centrocampisti, i giocatori offensivi del Chelsea, perché in quelle situazioni sono immarcabili per il 99% dei difensori al mondo. Quindi dovremmo essere molto attenti a creare più situazioni possibili che non piacciono a loro e che non mettono in risalto le loro grandi qualità. Ovviamente Lukaku in primis perché è un giocatore che hanno pagato tanto e ha rinforzato ancora di più una squadra che anche senza di lui è riuscita a vincere la Champions, non per caso. Ciao Giorgio, Romeo Agressi, Gol.com. Ti chiedo realisticamente che cammino pensi possa fare la Juventus in questa stagione in Champions? Grazie. L'importante è arrivare e passare il turno che è quello che tutti ci aspettiamo. Poi da marzo in poi, da febbraio in poi, si aprono mille dinamiche fra sorteggi, stati di forma, infortuni, squalifiche ed evoluzioni delle squadre che possono cambiare un po' tutto il corso della stagione. Io credo che in questo momento sia in campionato che in Coppa è inutile fare programmi a lungo termine o pensare a dove saremo fra qualche mese, ma pensare al presente, lavorare, migliorare, giocare, consapevoli che dobbiamo crescere, che stiamo lavorando, ma anche delle qualità che abbiamo. Quindi non bisogna avere il giusto equilibrio, analizzare tutto nella giusta prospettiva e con la giusta consapevolezza. Marco Vendizi, signora Mia Calciuniosa, Giorgio, tu che hai tanta esperienza insieme a Bonucci, date una mano al mister ovviamente per addestrare questi giovani in Champions League. No, ma in Champions League ormai siamo una squadra abbastanza esperta, tranne qualche ragazzo, posso pensare a Chiesa, l'ha già fatto l'anno scorso, quest'anno c'è Locatelli che ha le prime esperienze. Sono sfide però stimolanti, dove giocare contro i migliori aiuta a crescere, quindi mi ricordo quando ero giovane per queste partite fremevo e non vedevo l'ora di confrontarmi contro i migliori a livello europeo. Sono partite che ti servono per migliorare perché giocando contro i migliori capisci cosa ti manca e riesci sempre ad alzare il tuo livello. Poi è durante la settimana, durante tutti i giorni, durante il campionato che serve la quotidianità nel lavoro per fare questo step. Però te devi solo giocando in nazionale e in Champions League riesci ad alzare sempre l'asticella. Prego. Ciao Giorgio, Giorgio Musto di Cacciamercato.it. Ti chiedo quanto può pensare in questo momento l'assenza di un giocatore come Di Bala in attacco? Grazie. Che Paolo sia un giocatore fondamentale per noi è inutile negarlo e l'abbiamo sempre detto tutti. Però siamo una squadra che ha tutto per superire anche all'assenza di Paolo. Per fortuna non sarà grave, quindi dovrebbe saltare solo un paio di partite. Abbiamo una rosa valida che si farà trovare pronta e che sopperirà anche alla sua essenza. Poi uno dei migliori pregi del mister che è qui accanto a me è di non piangersi mai addosso, di cercare sempre nuove soluzioni alle situazioni che gli si pongono davanti. E così abbiamo fatto anche ora e faremo nei prossimi problemi che avremo. Ciao Giorgio, Alessandro Antinelli, Rai Sport. Ti chiedo, un risultato importante domani sera potrebbe far decollare definitivamente la stagione? Aiuterebbe, quello sicuro, ma come ho detto prima nell'equilibrio e nella consapevolezza di tutti i vari momenti anche in una vittoria poi non dovremmo fare voli pindarici e avere sempre la stessa equilibria. Però una spinta di fiducia sicuramente ci sarebbe come sono state queste due vittorie. Vincere aiuta sempre a vincere e a lavorare con più serenità. Però poi dopo ci va, come ho detto, tanto lavoro quotidiano e sempre il giusto equilibrio per analizzare ogni momento poi della stagione ed ogni momento poi che ha uno anche nelle partite. Bisogna tornare ad avere più equilibrio possibile, sia nel bene che nel male. Ciao Giorgio, Usain Bin Sports, Mena. Tu c'eri nove anni fa quando la Juve ha vinto 3-0 contro il Chelsea, che era campione d'Europa anche. Allora forse raccontare qualcosa ai colleghi come si batte il campione d'Europa. La mia domanda è quanto potrebbe essere importante questa partita nella stagione, in questo inizio per la Juve, a parte i tre punti. Infatti guarda, mi ha anticipato perché la cosa più importante sarebbe già nel girone perché una vittoria da domani ci permetterebbe di arrivare alle due sfide con Zeni, con il match point al servizio e quindi con la possibilità di chiudere presto un passaggio del turno che non è cosa da poco e che poi ci permetterebbe magari di gestire al meglio le ultime partite a livello di energie. Ci dovrebbe sicuramente consapevolezza, ma io credo che la consapevolezza ce la debba dare la prestazione. Domani dovremo fare, e sono convinto che faremo, a prescindere poi da quello che sarà il risultato finale, dove saranno magari dei piccoli episodi a deciderlo. Però l'importante domani è dare una prestazione di solidità, di forza e di grande entusiasmo. Ciao Giorgio, Gianluca Dino alla stampa. Volevo chiederti se questa Juve già da domani è pronta dal primo minuto con una difesa a tre. Grazie. Ancora non faccio allenatore. Quindi questa la passa dopo. Anzi, penso lo farò mai, quindi cambiamola proprio. Giorgio sarà un grande dirigente. Quindi la difesa, questa tienila, la giriamo dopo. Buonasera Giorgio, Luca Cavallerti in Voredio. Io volevo chiederti specificamente se dal punto di vista difensivo è cambiato qualcosa rispetto al primo ciclo, appunto in cui c'era il mister, se vi chiede qualcosa di nuovo a livello tattico specificamente. Grazie. No, no, le richieste sono fra virgolette sempre quelle, ma poi variano di partita in partita, variano le caratteristiche dei giocatori, perché giocare con un quadrato terzino non è giocare come con Danilo, giocare in un modo, giocare con un centrocampo più fisico non è come giocare con un centrocampo più tecnico. A seconda delle partite e degli avversari le richieste specifiche cambiano. L'atteggiamento generale, i principi rimangono quelli e stiamo cercando di ritrovarli dopo due anni che facevamo un calcio diverso, senza stare a dire se è migliore o peggiore, perché tanto in ogni cosa ci sono pregi e difetti, ma sicuramente era diverso. Bisogna ritrovare quel filo conduttore che ha portato questa squadra ad avere grande solidità che poi le ha permesso di avere quella autostima per arrivare a fare un percorso straordinario in Italia ed in Europa. Quindi bisogna ritrovare quel giusto mix e si torna sempre alla parola equilibrio anche in campo che ci permetta di tornare ai livelli a cui tutti aspiriamo. Ultime tre domande. Ciao Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport, ritroverai Giorginio che è il tuo compagno di nazionale. Volevo sapere qual è la cosa che ti preoccupa di più nel doverlo affrontare e se pensi, si è parlato tanto anche di pallone d'oro, se pensi che lo meriti. Io mi auguro che lo vinca perché è un amico e perché sarebbe un premio che sentirei anche mio, nel senso di italiano e di giocatore che ha partecipato a una vittoria e a delle emozioni che rimarranno per sempre nel nostro cuore. Ho sempre pensato che Giorginio fosse un buon giocatore. Dopo due o tre allenamenti che ci ho fatto insieme in nazionale, ti parlo di tre anni fa perché io ho cominciato, a parte il primo ciclo che avevo fatto con un'esperienza quando c'era ancora Conte Ventura, ma da quando era venuto Mancini abbiamo dato continuità insieme e ho capito poi qual era la sua grandezza perché con tutto rispetto Giorgio non ha qualità fisiche eccezionali, ha una buona tecnica ma la sua vera differenza è dentro la testa. Sono veramente felice perché tutti li affibbiavano poi dopo di essere un giocatore che potrà giocare solo con Sarri, invece sono cambiati altri due allenatori al Chelsea, in nazionale, in ogni posto che del mondo può andare, Giorginio gioca titolare. Sono veramente felice per lui se lo merita e mi auguro che possa vincere questo pallone d'oro. Ciao Giorgio, Marco, Conterio, Tutto Mercato Web. Appurato che non farei l'allenatore, appurato che non ci dirai se giocherete a tre, però qualora dovesse essere questo anche no, comunque a prescindere. Delict, per fare quel salto di qualità e per arrivare al livello tuo di Bonucci, cosa gli manca ancora? Matais è a quel livello lì, ha caratteristiche diverse da me, ha caratteristiche diverse da Leo, e viene da stagioni comunque importanti perché il suo primo anno, dopo un inizio non facile, ha fatto un post-lockdown devastante. L'anno scorso, in mezzo alle problematiche di un infortunio alla spalla e del periodo del Covid, che comunque lo hanno rallentato non poco perché ha fatto tre settimane piene di Covid e non è semplice di entrare subito, ha fatto una stagione importante. Ora di Matais si sta un po' parlando da quello che è in scia all'Europeo, dove dopo due ottime partite un errore ha un po' compromesso tutta la visuale. E purtroppo, secondo me, anche dentro la sua testa magari qualche certezza in meno c'è stata, ma in realtà Matais viene da stagioni importanti dove sta crescendo, dove chiaramente avendo 22 anni ha ancora tanti margini di miglioramento, ma i margini di miglioramento non vuol dire che non sia bravo adesso, anzi è già bravo. Poi a 22 anni è normale che si possa e si debba migliorare tantissimo. Ha un strapotere fisico che dovrà imparare a usare sempre di più, perché è talmente forte fisicamente che, tra virgolette, lo usa ancora poco, ma si parla di un giocatore di livello internazionale e di grande livello internazionale. L'ultima. Ciao Giorgio Nerozzi, Corriere della Sier, Corriere Torino. Senti, tu hai una vita che giochi ormai, sia in Champions che in campionato. Ti chiedo se c'è veramente una differenza di gioco, come alcune volte si scrive o si legge, o una differenza tra campionato nazionale e Champions, solo questione di livelli che incontri i migliori delle nazioni. Ti ringrazio. Hai già detto una cosa importante, incontri migliori delle varie nazioni, incontri squadre abituate a vincere, quindi anche quando affronti il Malmo, come è capitato in fronte a una squadra che vince il proprio campionato, che è abituata a dominare e a vincere la propria categoria. Poi magari quando incontra la Juventus o il Chelsea può fare più fatica, però c'è una fisicità spesso più importante e anche dei ritmi spesso più importanti rispetto magari a partite medie del campionato italiano. Poi capitano anche nel campionato dei partiti difficili, di ritmi alti contro giocatori forti. Però rispetto ad altri campionati e magari penso a quello inglese, la qualità dei giocatori comunque fa la differenza ed è normale che non sia la stessa. Bene, grazie Giorgio. Passiamo alle domande per il Ministero Allegri. Prego, iniziamo dal canale. Buonasera Ministero Enrico Zamorino, Juventus TV. Lei domani sera non avrà la disposizione di Bala e Morata. Le chiedo in attacco se ha già le idee chiare. In tal senso se ci stupirà con qualcosa di particolare? No, non è che c'ho da stupirvi, è che c'ho un po' di idee che siamo confuse. No, a parte i scherzi, domattina deciderò con chi far giocare. Vediamo un po'. Abbiamo fatto un buon allenamento, a parte i Ramzi sono tutti a disposizione, la Biu è a disposizione e domattina poi deciderò. Però domani bisogna fare come ha detto prima Giorgio, e quindi io me lo posso andare alla conferenza perché ha detto tutto lui. Fortunatamente ci vuole una partita tecnica. Loro sono una scuola fisica, una scuola molto solida, Tucci ha fatto un grandissimo lavoro, perché comunque ha dato solidità, ha dato tecnica, ha dato organizzazione difensiva. Sono molto forti in contropiede, sono molto forti sulle palle inattive, quindi per noi domani sarà un bel test sulle palle inattive. Magari finora abbiamo beccato sempre gol, domani sera magari non lo prendiamo. perché nel calcio succede questo. Però bisogna giocare una partita con pazienza quando abbiamo la palla, sarà una partita difficile perché è difficile trovare i varchi con loro e nello stesso tempo bisogna essere bravi a stare in campo. Giovanni Albanese, Sport Italia. Buon pomeriggio, mister. Ripropongo la domanda sulla difesa 3. Tra le idee confuse ha tolto il dubbio della difesa 3, quindi Delicte Bonucci che è lì in campo. Quello è il primo dubbio. Quello è il primo dubbio sicuro. Perché tanto l'ho già rispiegato, cioè non è questione di difesa 3, è questione di quando è la palla, se ce n'è 3 o se ce n'è 2. Passa tutto da lì. Marco Venditti, signor Amicalcio News, senta, al di là delle idee confuse, lei invece ce l'ha molto chiare sicuramente, è possibile chiesa in avanti, un suggerimento che le do, poi chiaramente tutto può succedere, chiesa in avanti con... No, i suggerimenti li ascolta, perché poi vengono delle idee... No, 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 con Ken e Kuluseschi dietro, come? Ken e Kuluseschi dietro, in regia e chiesa davanti. Chiedo scusa se l'ho detto. Abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, l'unica punta vera di ruolo è Ken, e quindi cercherò di mettere i due o tre davanti, a seconda delle caratteristiche, ecco. Però domani mattina deciderò un po' quello che sarà la formazione per domani sera. Buonasera, Massimo Ranari, Rai TGR Piemonte. Forse ho sentito male prima, volevo chiedere se Rabiot è a disposizione e se sulla sinistra il Bernardeschi, visto contro la Sampdoria, l'aveva soddisfatta. Grazie. Bernardeschi ha fatto una buona partita, ma Bernardeschi è un giocatore che ha delle ottime potenzialità inespresse, perché ha un motore talmente importante a livello fisico, a livello di gambe, che ogni tanto gioca un pochino da fantasista. Ma non è il suo ruolo, lui deve fare una partita di sostanza, l'interna sostanza ha delle qualità importanti, perché dopo arriva al tiro in un certo modo, attacca l'aria in un certo modo, quindi quello che ha fatto con la Sampdoria ha fatto una buona partita, ma così come l'ha fatta finora quando è stato chiamato in causa, quando è entrato a Spezia. E tutto parte da quello che uno ha nella testa, la cattiveria nel giocare le partite. La cattiveria nel giocare le partite vuol dire quando hai soprattutto la palla, perché tutto passa da là. Per quanto riguarda l'aria, la voi è a disposizione. L'ho detto prima, c'è la caviglia che sta bene, quindi è a disposizione. Fabiana della Valle, cantata dello Sport, avevi detto l'altro giorno che ce ne dicevi tre contro il Chelsea in conferenza. Tre? Tre giocatori avevi detto. Cesni, Locatelli e Aleksandro. Va bene? Va bene. Ma sono salvato. No, volevo sapere che cosa hai chiesto a parte delle battute. Volevo sapere che cosa ti aspetti dalla squadra, da questa partita, soprattutto dai giovani, insomma, che avranno un ruolo importante. No, giovani non sono. Diciamo quelli che un po' in un meno esperienza a livello internazionale. Ma mi aspetto, gli ho detto anche oggi ai ragazzi e alla squadra, domani voglio vedere una squadra che gioca tecnicamente una bella partita, pulita, perché loro sono una squadra fisica, ci vuole pazienza, bisogna, tra virgolette, divertirsi a giocare queste partite perché hanno uno stimolo, c'è l'attenzione che vi è naturale perché altrimenti saremo dei folli, dei pazzi. Però vi devo giocare una partita internazionale nel senso che sappiamo che abbiamo di fronte una squadra che se sbaglia una volta ti punisce. Voi direte, fino ad ora avete sbagliato una volta, vanno puniti anche in Italia, avete ragione anche voi. Però domani bisogna farla ancora di più. ma bisogna giocare una partita pulita tecnicamente vuol dire giocare bene. Buonasera, Romea Gressi, gol.com. Mister, lei ha detto recentemente una frase su Rabiot che avevamo ascoltato anche dai suoi predecessori, ovvero che nemmeno lui sa quanto sia forte. Le chiedo, come può crescere ulteriormente? Cosa gli manca per la consacrazione definitiva? Grazie. Adriano, anche lui sulla farza legge Bernardeschi, la differenza nei giocatori, perché quando un giocatore è alla Juventus tecnicamente difficile può essere discusso, no? Quando un giocatore viene scelto da una grande squadra difficilmente può essere discusso. Poi la differenza in una carriera nei giocatori passa da quello che hanno nella testa, dall'obiettivo personale al servizio e alla squadra e dà la voglia di mettersi in discussione tutti i giorni e migliorarsi e la cattiveria, passatemi il termine, con cui fanno gli allenamenti, con cui tirano un porta, con cui passano la palla, con cui difendono. La carriera dei giocatori passa da quelle cose lì che sembrano dettagli, ma sono quelli che fanno la differenza. Quanti giocatori bravi tecnicamente con dei motori nelle gambe importanti si sono persi? Perché gli mancava un pezzetto. Rabiot è un giocatore che io fossi lui sarei arrabbiato con me stesso perché un giocatore che in Italia, questo è il terzo anno, giusto? In due anni, quanti guarda ha fatto? Non lo so, forse dieci in due campionati. Non esiste. Allora se fossi lui mi arrabbiare con me stesso perché devi partire un attimo prima per l'inserimento, devi cacciare meglio un porta. Sono tutte cose che deve migliorare e credo che quest'anno lo farà. Volevo chiederle di un giocatore che ha grande esperienza e grande fisicità per la gara di domani che è Danilo. Sei un giocatore che possiamo rivedere come inizio dell'anno magari qualche metro più avanti o sei un esperimento che oramai è andato in soffitta e anche le chiedo visto che l'abbiamo visto in campo oggi a che punto è Arthur? Arthur è ancora molto indietro, sono stati fatti dei test fisici e ora nella sosta giocheremo due partite amichevoli per cercare di metterlo in condizione nel più bel tempo possibile e soprattutto per far giocare anche quelli che finora hanno giocato un po' meno. Per quanto riguarda Danilo Danilo così siete contenti ne do quattro domani Danilo gioca va bene? Ho dato anche un premio dove più avanti? Più avanti non so se giocherà cioè più avanti col Torino? Ah no più avanti questo non lo so vedremo non lo so questo non lo so Buonasera mister Luca Cavallero Tim Voredio io invece volevo porle una domanda riguardo a Bentancur come giudica il suo avvio di stagione e se secondo lei con Locatelli è più a suo agio dal punto di vista tattico grazie Una mia convinzione è sempre stata quella che Bentancur è un giocatore che è cresciuto molto domenica aveva la possibilità di far gol se la palla tiene bassa fa gol invece ha fatto fare una grande parata a Udero però è un giocatore che da solo questo è una mia opinione non può fare la regia di una squadra ha bisogno di una collaborazione e Locatelli sicuramente sotto questo punto di vista gliela può dare e quindi si dividano il ruolo a metà anche perché Rodrigo non la può fare da solo Locatelli in questo momento qui non è ancora pronto per farla da solo quindi quando sono insieme 51 58 60 40 70 30 l'importante è arrivare al 100% buonasera Alessandro Antinelli Rai Sport una domanda su Kinn perché l'anno scorso ha fatto vedere delle grandi cose anche in Champions col Paris Saint-Germain vorrei sapere che cosa si aspetta da questo ragazzo cioè il salto di qualità l'ha già fatto o lo può fare in una partita in una situazione anche complicata di responsabilità come domani sera Innanzitutto responsabilità Kinn non deve avere perché comunque che responsabilità deve avere Kinn è deve giocare una partita e deve fare il gol Kinn una cosa che sa fa meravigliosamente bene è quello di fare il gol perché poi calcia molto bene davanti alla porta attacca bene a profondità chiude bene l'azione deve migliorare quando deve un po' giocare con la squadra sui controlli diciamo la tecnica individuale però un giocatore per l'età che ha ha già un bel po' di esperienze Salve Ministro Gianluca Dino la stampa invece volevo chiederle su Chiesa che è un giocatore che in questo 2021 è letteralmente esploso in Champions ha fatto anche l'anno scorso 4 gol in 8 partite ha vinto l'Europeo quindi cosa si aspetta anche da Chiesa domani magari appunto in una posizione un po' più d'attaccante grazie Da Federico mi aspetto quello che sta facendo ora è ancora meglio io credo che che lui abbia fatto molto bene perché per arrivare alla Juventus e fare un'annata importante come ha fatto l'anno scorso non era semplice ma quest'anno per lui poi aveva fatto europeo dove ha segnato dei gol decisivi l'ha messo in una condizione che non è più il ragazzo dove tutto quello che fa va bene tutti ora si aspettano molto di più però per lui il margine di errore si è assottigliato e la crescita non ha più un ampio raggio come aveva prima ma si è accorciata ecco perché lui per lui quest'anno è molto importante e molto più difficile dell'anno precedente e quindi deve imparare tante cose ultime tre domande Marco Conterio tutto mercato web i singoli sono finiti allora vado sulla partita la partita con il Manchester City del Chelsea ha dimostrato che il Chelsea è andato in grande difficoltà si è pressato l'ha detto anche tu che l'oggi l'ha detto anche Giorginio può essere quella la chiave di volta tattica per la Juventus trasformando un po' anche quello che è stato almeno per le ultime partite il suo stile di gioco cioè pressando costantemente il Chelsea grazie bisogna dare pressione però allo stesso tempo la pressione va data giusta e soprattutto bisogna quando abbiamo la palla giocare bene perché va tenuta di più vanno fatti più passaggi perché altrimenti se dopo 4-5 passaggi consegni la palla all'avversario non puoi permettare di giocare 95 minuti a pressione sull'avversario quindi nel momento in cui hai palla devi respirare per cercare di costruire l'azione per poi avere la forza di andarla a recuperare subito Riva quando si partecipa la Champions League ognuno di noi deve avere il desiderio di vincerla è quello che ti porta a fare delle cose straordinarie domani giochiamo contro una squadra campione Europa sarà una serata magnifica indipendentemente da come finirà perché bisogna fare una grande prestazione bisogna avere l'entusiasmo la voglia l'emozione di giocare queste partite è questo che ti porta a fare delle cose straordinarie perché comunque tutti bisogna lavorare per ottenere il massimo cercare di vincere la Champions cercare di vincere il campionato perché solo così puoi arrivare in cima porsi l'obiettivo di dire passiamo il girone già se ti poni l'obiettivo passiamo il girone poi vediamo passiamo il girone poi vediamo niente perché l'obiettivo nostro è arrivare in finale il desiderio nostro non l'obiettivo il desiderio nostro di ognuno di noi poi non so se ci arriveremo ma comunque è un obiettivo là che abbiamo davanti che bisogna andarlo a prendere uguale lo scudetto è questo che fa la differenza è una roba di amor proprio di ambizione personale per stare in una grande squadra poi non è tutti gli anni di santo e si può vincere perché è impossibile perché ci sono gli altri perché vincere non è una cosa normale ma è una cosa straordinaria però è quella il desiderio che dobbiamo avere l'ultima ciao Neorotti Corriere della Sera Corriere Torino ti chiedevo la Premier è da anni il campionato più bello quello più invidiato del mondo secondo te hanno avuto solo i quattrini in più o qualcos'altro grazie ma io non so se è più bello più brutto è diverso perché il campionato italiano è diverso da quello francese da quello spagnolo da quello tedesco c'è un'atmosfera diversa c'è una cultura diversa in Inghilterra c'è una cultura diversa io non ho mai allenato lì però da quelli che ci sono stati da quelli che mi raccontano e nel vedere le partite già c'è una cultura diversa già la gente che va allo stadio ti fa per la sua squadra e non ti fa contro gli altri in Italia invece vanno allo stadio per ti fa contro gli altri e già questa è una cosa diversa ma è una cosa culturale la gente va allo stadio per assistere allo spettacolo e a ti fare incitare i propri giocatori in Italia c'è una cultura completamente diversa e questo è in Spagna ce ne sarà un'altra in Germania ce ne sarà un'altra poi che loro abbiano più risorse risorse economiche ma questo è un dato di fatto perché il campionato inglese credo che lo vendano per 3 miliardi e 6 se non sbaglio il rapporto è 1 a 3 credo se non sbaglio quindi c'è poi da fare però in Italia abbiamo un vantaggio che comunque tatticamente perché siamo gli italiani siamo un popolo comunque che in qualche modo può si arrangia trova più scaltri riusciamo in qualche modo a sistemarlo ma questo è nella storia nel DNA dell'Italia non possiamo e non dobbiamo diventare la Spagna la Francia la Germania l'Inghilterra noi siamo l'Italia e l'Italia siamo punto piaccia o non piaccia poi che bisogna migliorare che bisogna tutto ma non possiamo perché già le strutture diverse e gli spagnoli sono diverse le nostre e quelli tedeschi sono diverse le nostre noi forse ci avviciniamo più a quella tedesca forse ma non assolutamente a quella inglese poi le partite quali sono belle perché è una roba che io mi domando perché mi piace imparare e comunque ascoltare no? bella partita bella partita quale? ci sono delle belle partite che finiscano 3 a 2 2 a 1 1 a 0 o 0 a 0 magari lo 0 a 0 a tanti non piace perché magari non colgono il dettaglio nel difendere perché poi anche i difensori quando fanno delle belle partite cioè sono uguali agli attaccanti cioè sono delle belle partite che finiscono 0 a 0 ora non più perché post-covid io sono rientrato ora quindi mi sono fatta anche una domanda che comunque tutti questi 3 a 2 4 a 3 5 a 4 può darsi che io sento parlare che è cambiato il calcio e questo può essere ma questo lo valuteremo credo tra un anno perché innanzitutto sono stati un anno e mezzo senza tifosi e giocare senza tifosi comunque le pressioni nemmeno la pentola e i tifosi non ci sono e quindi ora comunque giochi col 50% ora l'hanno portata al 75 meno male ti deve riabituare quindi fino a marzo aprile non puoi sapere se il calcio è cambiato è cambiato perché le partite finiscano più 3 a 2 non lo so questo lo possiamo dire ora ma non è un dato ci sono pochi dati che possano confermare questa roba perché poi dopo a marzo quando c'è gli stadi pieni speriamo così si è sconfitta la pandemia va bene è tutta un'altra roba quindi non possiamo dire ora perché noi in Italia siamo bellissimi in Italia uno fa un tiro in porta 35 milioni le partite finiscono in Italia 2 è cambiato il calcio ci sono della calma aspettiamo un attimo non ci sono dei dati quello che penso io poi magari mi sbaglio perché ci sono quelli più bravi che sicuramente la vedono in un modo diverso bene chiediamo grazie a tutti buona serata grazie